Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Appena sveglia... Amore, dammi... Appena sveglia, sono nato la sveglia. Che c'è? Ah, così sto riprendendo, aspetta amore! Come che c'è? Sì, amore. Allora, fa quasi freddino. No, fa freddo. Fa freddo io stanotte. Amore, abbastravoci che c'è gente che torna. Altre che è recondizionata, è recondizionata, ci vado a riscaldare molto qua. Infatti abbiamo detto, ma il piumone qua servirà. Porca miseria si è servito. Sono andato in bagno stanotte, c'è la fredda. Tre finestre aperte. Ma quelle lì sono aperte fisse, quelle. Ma meno male che abbiamo chiuso questa qua principale, qua grossa. E c'è solo ancora a te. Noi se vogliamo fare la mega colazione nel campione galattico. C'hai fame? Sì, mangio anche la munca con il campanello. Ho detto la munca nel latte. Senti la mattina. Speriamo che c'è la colazione di campioni. Non c'è quella munca se lo restano. va bene va a dopo senti le campane della tutta notte non dormono non dormono credibile ma ci ha detto di andare di qua per la colazione contempliamo la natura se adesso andiamo a mangiare c'ho fame te non hai fame da 1 a 10 ecco ecco l'ora del pranzo dai mori andiamo quasi va su colazione ma vedi qua c'è tipo picnic tipo tipo bungalow tipo allora questo è il tavolo della colazione molto molto semplice se vogliamo dire così marco sta cercando cibo ragazzi non ce n'è c'è la torta ci sono i rice krispies e i biscotti qua vabbè ci mangeremo un pezzo di torta si da fa i biscotti credo fatti in casa i conflix amore questo c'è prenditi co io prenderò un pezzo di torta non so ecco auguri eccoci manco sta litigando con il sacchettino dei posate ma qua dentro ci metti la carta ok allora dai facciamo a foto di copertina ci ci è buono lì e buono qui allora marco si è preso la torta molto casereccia credo che sia io penso che sia fatta da loro è buona 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 addirittura a messaggiare ma io ho deciso che vi mangerò ma fatti visto date o senza niente o con la marmellata adesso vedo ma mi sa più senza niente va bene dai e poi è preso anche un biscotto la faccia col colato la marmellata il biscotto allora forse biscotto lo proviamo va bene amore ma l'appetito ma colazione eccoci l'ho lasciato tutto così ma devo rimontare tutto è arrivato il sole anche bello la giornata oggi oggi non danno pioggia io sono scappati che ha fatto la pioggia però qua poi sono invece erano rimasti e detto che la gente è uscita e vabbè pazienza guarda che bello però adesso vediamo per è oggi dicono che c'è oggi non da pioggia per niente speriamo allora eccoci qua mamma stiamo schiattando ragazzi abbiamo finito adesso di rifare il banco stiamo schiattando siccome colazione non pratica a tutti mangi proprio i paninati non te lo tieni per mezzogiorno c'è l'altro c'è due panini qui anche uno me lo mangio io però non ho fame praticamente colazione io non l'ho fatta perché non mi ispirava niente ho assaggiato un pezzettino di torta e basta sono andata dall'alimentare a prendere un po' di prosciutto cotto no amore il pane lo voglio mi sono preso due panini piccoli e il prosciutto cotto adesso mangiamo e c'ho fame mi vuole imboscare il panino dai buona colazione veramente fa vedere il paninazzo e l'abbiamo fatto lì l'ha fatto fare all'alimentare guarda che roba guarda poi adesso abbiamo proprio fame buon appetito non vuoi fare una foto di copertina col paninazzo in bocca? no e dai dai lì il primo morso buon appetito arrivano le vespe ovviamente viaggia tempo e viaggia tempo ragione è passato un po' di tempo vediamo fa un caldo raga è passato un po' di tempo è passato un po' di tempo è passato un po' di tempo Ma quanti ce n'è? Mamma quanti? Ce la fa Fiscolo più Buo raga, non finiscono più Eh, stiamo qua Bella Oh, sono finiti oggi, credo C'è più nessuno Allora, quello è il nostro banchetto Questa è la vista Noi ci siamo messi all'ombra perché stiamo schiattando Sono le quattro, dice anche il campanile Allora, la vista è spettacolare, eh E i scorzioni qua C'è la vista veramente bellissima Però fa caldo, 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 caldo Caldo Ma che caldo fa Caldissimo Wow, guarda che vista Noi ragazzi stiamo andando via Siamo stanchi, 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 stanchi Morti Stanchi, morti Morti, morti che stanchi Sì, ci aspettano, guarda che roba Adesso ci aspettano due ore di macchina Abbiamo sofferto tanto il caldo oggi Tanto, tanto, tanto E siamo su 800 e passa metri, eh Mamma mia 800 metri se non sbaglio L'altezza Adesso piano piano ci ritorniamo a casa Guarda che bello Però la vista non posso dire niente Vabbè Le viste Eh beh Scusate Ma lo distrurrei Vabbè Ma qua d'inverno, amore, deve far freddissimo, ma Ma inverno ti devi trasferire a quelle parti Va bene ragazzi Noi vi salutiamo Speriamo di avervi fatto un po' di compagnia anche con questo vlog Spero vi sia piaciuto Spoliciate Condividete Scampanellate E alla prossima Ciao Speriamo di avervi fatto un po' di compagnia anche con questo video Speriamo di avervi fatto un po' di compagnia anche con questo video Speriamo di avervi fatto un po' di compagnia anche con questo video Speriamo di avervi fatto un po' di compagnia anche con questo video Speriamo di avervi fatto un po' di compagnia anche con questo video Speriamo di avervi fatto un po' di compagnia anche con questo video Speriamo di avervi fatto un po' di compagnia anche con questo video